Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. Un lutto ha colpito un posto al sole, la celebre sopopera di Rai 3 che dal 1996 tiene compagnia a milioni di italiani con le complesse storie dei condomini di Palazzo Paladini, situato sulla collina partenopea di Posillipo. Il cast della serie è stato improvvisamente colpito da una tragica notizia, annunciata come un fulmine a ciel sereno. In molti hanno espresso incredulità e sconcerto di fronte a questa improvvisa perdita. Un posto al sole presenta una vasta gamma di personaggi, ognuno con le proprie storie, relazioni e conflitti. Silvia Graziani, interpretata da Luisa Matucci, Silvia è un personaggio centrale della serie. Affronta spesso drammi personali e intrighi legati alla sua famiglia. Questo è solo uno dei personaggi principali di Un posto al sole, una serie ricca di sfumature e dinamiche complesse. Sul profilo personale social, l'attrice Luisa Matucci, famosa per il suo ruolo di Silvia Graziani nella SOP, ha condiviso un commovente addio al marito Gianni Netti, imprenditore, che ha toccato il cuore di milioni di utenti. Le parole, ciao amore della mia vita, trasudano amore e dolore, riflettendo il profondo affetto dell'attrice durante questo momento di lutto, e tutti noi facciamo le più sentite condoglianze alla famiglia. Ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati. Grazie Grazie